La cosa più importante è che io vorrei sensibilizzare la cittadinanza a mettersi in regola con il pagamento dei latari proprio per evitare di dare luogo a quelle sanzioni che l'amministrazione mai vorrebbe fare. Perché è importante sensibilizzare e far pagare a tutti i latari? Perché se tutti la pagassero potremmo intervenire più su quelle fasce più deboli. Io penso sempre alla latari sociale introdotta nel 2017 che è costantemente in aumento con un costo dell'amministrazione iniziale di 160 mila euro arrivata quasi a 200 mila euro. Quindi se tutti paghiamo il tributo della Tari possiamo investire più nei confronti delle fasce più deboli e poi per avere anche una città più decorosa che è importante per tutti. Vi augurate che questi primi risultati possano servire a spingere i cittadini ad autodenunciarsi? Io lo spero e li invito a presentarsi presso l'ufficio Tributi anche se dobbiamo dire la verità che su quasi 1800 famiglie accertate nel quartiere Leuca diciamo che solamente il 25% non è la regola quindi un applauso a tutti quei cittadini che con grandi difficoltà soprattutto in questo periodo Covid ha deciso di pagare il tributo. C'è la possibilità di razionare questi pagamenti? Certo c'è la possibilità innanzitutto arriva in bollettazione con quattro rate mentre negli anni precedenti in base all'importo da ratezzare ci sono dei vari scaglioni per poter rateizzare gli importi.